La giornata stravorevole per l'uffizieria San Velo, il suo commento sui giocatori, facciamolo presentare subito. Ristandro, che ruolo ha l'interno della squadra? Centrocappista centrale. Cos'è mancato oggi alla squadra? Cattiveria e un po' di trintagno. L'ho chiamato oggi, loro hanno nominato più organizzazione e l'ho un po' di trattamento. Ok, perfetto. Grazie mille. Anche a destello posso dire che è stata una partita comunque molto combattuta in maschera. Grazie mille. Ciao.